Buonasera, bentornati a Tu per Tu con lo sportello che tutte le sere alle 18 porta a casa vostra un professionista, torna nei nostri studi con molto molto piacere il nostro architetto di fiducia la dottoressa Paola Uga da Vercelli dove ha il suo studio e da dove veramente partono tantissime idee creative, originali, bellissime che questa sera vi faremo vedere anche grazie ai contributi fotografici che la nostra Paola ha portato Buonasera Maria Rosa e buonasera agli telespettatori Tutto bene Paola? Tutto bene, sì Rush finale di fine anno, no? Sì, diciamo che non è proprio un rush finale ma dopo l'estate è come un nuovo inizio c'è sempre il mese di settembre un nuovo inizio Inizia l'anno scolastico Inizia l'anno nuovo, non è il primo gennaio ma è settembre effettivamente Anche se stavamo dicendo prima dell'inizio della puntata che il 30-12 è la scadenza per alcuni bonus importanti come sembrerebbe quello del 90% facciate Sono le facciate, sì, effettivamente daranno la possibilità, almeno questa è la linea del Sole 24 Ore è una guida pubblicata anche sul Sole 24 Ore dove praticamente si potranno presentare le pratiche e pagare l'intervento entro il 31-12 e poi realizzarlo nel 2022 Ve l'abbiamo già ricordato cari amici, vogliamo ricordarvelo anche questa sera perché appunto il 31-12 è qua Ma comunque noi ci eravamo lasciati su un argomento veramente bello, veramente colorato da affrontare e quindi non vediamo l'ora di farlo insieme a Paola riguarda esattamente il contrario della facciata, le pareti interne della casa Parleremo di carta da parati Se avete delle domande su questo argomento o qualsiasi domanda vogliate fare alla nostra dottoressa Uga potete farlo allo 0381 0914 51 tramite una telefonata oppure sempre via Whatsapp alla vecchia maniera al 366 11 88 002 E quindi partiamo, è proprio così Paola, ci siamo lasciate la scorsa volta su carta da parati ed intorno Abbiamo detto, non ne parliamo perché è un argomento lunghissimo, di grande attualità Come mai c'è questo ritorno? Perché comunque all'interno dell'abitazione quando si studiano determinati elementi decorativi ci sono delle prospettive, ci sono degli elementi che diventano magari importanti come scorcio rispetto magari all'ingresso di un'abitazione rispetto ad un fondo a parete in una camera da letto e quindi si vuol dar risalto, maggior risalto all'elemento decorativo che può fare da sfondo alla parete attrezzata dei divani piuttosto che a quella della camera da letto o piuttosto anche che a una parete, diciamo, studio nella camera di un ragazzo però per dare proprio un effetto visivo e prospettico anche diverso o una macchia di colore alle volte Ecco, e quindi ci dobbiamo scordare un po' quell'uso della carta da parati che andava a incartare tutta la casa, giusto? Sì, diciamo che non sono... Gli anni 70 era così? Sì, era così, gli anni 70 usavano praticamente la carta da parati magari su tutte le pareti dell'ambiente e quindi diventava un pochettino pesante anche e soprattutto se la carta da parati era un elemento molto decorativo magari con un disegno geometrico piuttosto che floreale mentre adesso si va a dosare solamente su determinate pareti Ecco, andiamo proprio così a gestire in maniera soft con maestria, in maniera soft e così davvero regaliamo importanza al nostro ambiente e detto fra noi, siccome l'altra volta ci dicevamo che la carta da parati rispetto magari alla classica mano di vernice costa anche un po' di più allora si riesce anche a contenere la spesa? Sì, 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 anche con le carte da parati perché ci sono carte da parati si apre un mondo veramente elevato nel senso che alcune magari possono essere anche firmate da chi è da designer e quindi hanno chiaramente un costo maggiore e altre invece possono essere prodotte da aziende ma comunque che hanno un motivo che aggrada e che si inserisce bene nel nostro contesto e altre addirittura come scopriremo adesso possono essere inventate di sana pianta dal vostro architetto che le realizza per voi in maniera del tutto personale e allora se dalla regia vogliamo così iniziare questa carrellata ci soffermiamo su ogni foto così Paola ci spiega che cosa ci ha portato ecco qua, abbiamo qui, vediamo praticamente una parete intera questa è una parete di una abitazione un edificio residenziale una ristrutturazione diciamo quasi completa dell'appartamento e questa è la zona del soggiorno avevano appena finito di montare una parete attrezzata diciamo con una parte di libreria e una porzione bassa manca la televisione nella parte centrale e qui il fondo ecco è proprio dato da un pochettino questa carta particolarissima perché tutti quei piccoli segni sono mongolfiere, dirigibili ed è una carta da parati l'elemento si è visto tanto anche nella piastrella di Fornasetti ecco questo è un particolare proprio della carta da parati molto spiritosa, molto divertente molto spiritosa ma anche elegante perché comunque non è pesante diciamo rientra abbastanza nei toni di colore ecco dell'ambiente tutto questo ha dei controsoffitti diciamo che si staccano dalle pareti e fanno dei giochi di luce con dei led perché il controsoffitto non finisce contro la parete ma è arretrato di circa 25-30 centimetri e infatti adesso vediamo in questa immagine invece appunto la nostra carta da parati come si combina con l'ambiente e va a essere proprio uno dei tanti elementi e quindi ha davvero la sua importanza quando lo vediamo frontalmente ma poi si lega e si sposa benissimo a un arredamento più classico se dalla regia torniamo un attimo ancora sull'immagine frontale della carta da parati siccome l'altra volta i telespettatori ci chiedevano qualcosa anche in base al colore noi qua in effetti vediamo una carta da parati che è nera giusto? no, ha un fondo che è un grigio chiamiamolo non proprio antracite ma un grigio fumo di Londra potrei definirlo e il pavimento è effettivamente un grass porcellanato sui toni del grigio è un po' tutto sui toni del grigio questa casa solamente poi i toni del divano che sono chiari il tendaggio chiaro il tappeto grigio però più un grigio più morbido mentre la carta da parati ha effettivamente un grigio un fumo di Londra che è abbastanza corposo come grigio ma non risulta pesante la parete ha una lunghezza circa di 4 metri e mezzo quindi è una parete anche importante però ugualmente appunto risulta così leggera, bella e sempre rimanendo su questo ambiente ho visto che i mobili poi vanno sopra vanno appoggiati, ci sarà anche la televisione quindi non bisogna neanche aver paura di andare dopo ad arredare no, non bisogna aver paura ma non bisogna neanche esagerare perché se si nota diciamo dalla composizione c'è la parte della libreria alta però è marginale laterale e prenderà circa un metro e mezzo mentre la parte poi che si sviluppa di contenitore è tutta bassa molto bassa ok, quindi dobbiamo sì arricchirla ma ovviamente non coprirla non coprirla totalmente cosa l'abbiamo fatta fare? certo, certo quindi dobbiamo scegliere una parete che sicuramente non verrà attrezzata in maniera la televisione lì comunque ci sta perché oggi ce l'hanno ed è una televisione ma anche di notevole dimensioni però si inserisce bene il resto però è tutta libera ok, deve essere un arredamento leggero benissimo e questa è già una bella idea e quindi abbiamo già dato un po' di consiglio quindi una parete sola all'interno di un ambiente la parete preposta non deve essere sicuramente una parete interamente attrezzata ma una parete che lascia comunque la sua importanza come è al tatto? perché queste carte sono belle anche da toccare ci sono diversi tipi di finitura questa che abbiamo visto è una vera e propria carta che comunque risulta lavabile sulla superficie e vengono applicate chiaramente con delle colle specifiche e sono tutti rotoli da circa larghezza di 60 cm i giunti comunque sono impercettibili perché il posatore va scelto con cura deve essere una persona che sa fare il lavoro in maniera veramente certosina e altre invece non sono carte ma sono definite vinilici perché magari la superficie può sembrare al tatto non dico plastificata ma comunque ha una superficie un pochettino più rugosa proprio al tatto e anziché essere liscia come la carta poi ci sono alcune finiture che sembrano quasi stoffa sì, 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 alcune sì sembrano proprio tessute soprattutto su quelle con l'effetto diciamo paglia giapponese perché c'è la trama del tessuto proprio che emerge fuori una volta quando proprio parliamo diciamo della storicità della carta da parati nata con un movimento art and craft in Inghilterra a metà dell'ottocento perché comunque già all'epoca erano motivi che si studiavano e lì c'erano i disegni diciamo di William Morris che hanno fatto proprio da avanguardia per il design moderno oserei dire ed erano proprio alle volte tessuti tesati sopra una struttura magari linea in modo che il tessuto potesse avere quell'effetto del disegno però rimanere tessuto dei propri pannelli che meraviglia è maggiormente facilmente pulibile e quindi con una spugnetta inumidita chiaramente non bagnata anche se per dire inavvertitamente può cadere una macchia certo le macchie sono sempre un po' un punto interrogativo dipende da che cosa si cade però con una spugnetta si può passare e se uno la vuole pulire, lavare, mantenere ma proprio inumidita una cosa diciamo soft molto impercettibile detergenti zero evitiamo quindi maniache della pulizia maniaci della pulizia la pulizia vinile quella più delicata qual è? i tessuti se vogliamo perché se uso un tessuto se mi cade veramente una macchia non so magari del caffè inavvertitamente può o potrebbe non venire via quindi rimanere la macchia o la lune ecco lì in quel caso magari si può agire con un prodotto specifico chiamato il tappeziere però però sempre meglio chiedere a diciamo al rivenditore che ci ha fornito la carta da parati e anche al posatore perché il posatore sa molto ecco quindi affidatevi all'architetto che vi porta anche il posatore giusto perché veramente magari scegliamo una carta da parati bellissima però poi se non no se è mal posata si vede subito se è mal posata l'occhio cade lì eh non c'è niente da fare si vede anche se non c'è il motivo e se è solo strutturata magari un po' operata di superficie nel senso che non è liscia magari ha un effetto mosaicato ma tinta su tinta ma se è posata male il giunto dal giunto dei due pannelli si vede subito anche poi se il giunto è leggermente sovrapposto sovrapposto tutto è inguardabile posatore io ho un posatore chiamo sempre lui un posatore di fiducia proprio posatore di fiducia se volete se ce l'avete bisogno ce l'abbiamo noi allora andiamo avanti perché ci sono veramente tante tante immagini da andare a commentare quindi se dalla regia ci mandano la prossima immagine che abbiamo possiamo così andare ecco qua questa è un'altra carta da parati sì questa è beh adesso qui era appena terminata la posa è un bagno quindi per far vedere anche che effettivamente anche in un locale come un bagno si possono abbinare diversi materiali qui ho due pareti progettate praticamente si vede un pochettino marmore sulla sinistra con un bianco carrara il fondo parete dove c'è il mobile lavabo con lo specchio c'è questa carta da parati molto particolare che ha tutte zebbre leopardi con questo fondo che è un rosa un rosa acceso non è un fucsia ma è un rosa acceso molto bella e poi qua adesso non si vede nelle fotografie ho creato ancora un contrasto maggiore anche col vano doccia che ha la piastrella e il piatto doccia totalmente grigio scuro quindi ci sono diversi toni di colore il marmo a terra il grigio che riprende poi il piatto doccia e le pareti della doccia e questa prospettiva appena si entra di questa parte diciamo del mobile lavabo che tra l'altro è l'igno quindi è un mobile non dire che sia laccato anche su un mobile che può risultare chiamiamolo di finitura più classica se vogliamo comunque questa carta da parati si adatta benissimo sta veramente bene sì molto molto bello anche perché comunque il disegno per quanto così ci siano degli animali eccetera è un disegno anche in questo caso molto elegante sì molto elegante molto strutturato e comunque leggero c'era forse un particolare si vedevano sì c'è la foto di un particolare ecco l'altra ancora che vediamo davvero il disegno eccolo qua si vedono ci sono queste zebbre ci sono dei motivi floreali intorno le giraffe, le uccelline le giraffe è molto molto particolare ma io la trovo anche elegante di gusto allora e qua c'è la domanda che era arrivata l'altra volta perché insomma tu avevi accennato al fatto che addirittura avevi posato una carta da parati in bagno e non una sola volta quindi è una cosa che tu fai perché qua sono sempre le donne che sono preoccupate e quindi Angela ci aveva chiesto ma non è delicata la carta da parati poi vado insomma magari si va a rovinare subito addirittura se la metti in bagno vuol dire che è resistente sì sì è un lavabile a tutti gli effetti comunque infatti adesso il vano doccia non si vedeva ma sulla destra c'era subito il vano doccia col cristallo libero e quindi quando uno ha il cristallo libero un po' le gocce e quant'altro escono perché non è come avere un box doccia chiuso però la carta da parati bisogna poi fargli un trattamento sopra particolare ah ok quando è nel bagno in genere io faccio quel trattamento in modo che lo rende un pochettino come dire impermeabile ok quindi carta da parati in bagno sì ma va fatto un trattamento per renderla impermeabile quindi va da sé che si può usare qualsiasi tipo di carta da parati se poi vai a fare il trattamento giusto sì 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 e anche quella di tessuto sì sì diciamo che sono meglio le carte di carta o vinilico allora torniamo un attimo sul bagno dove sulla foto quella un po' più grande dove si vedono anche le altre pareti perché vorrei commentare insieme a Paola altri elementi ecco qua allora ovviamente quello è un lavabo ad appoggio che anche quello insomma chi ce l'ha lo sa si schizza parecchio da sopra piano sì quello è un lavabo da sopra piano che ha la rubinetteria più alta perché deve non è incassata diciamo dentro al mobile ma deve avere la bocca che quindi raggiunge il nostro lavabo effettivamente è vero se ho poi la rubinetteria a parete soprattutto e non diciamo tramite miscelatore che parte dal mobile comunque anche la bacinella sopra piano è di grande estetica ma può fare maggiore schizzi o gocce quindi assolutamente il trattamento va fatto poi credo anche per il vapore e quant'altro carta da parati in bagno sì quindi è un ambiente anche il bagno in cui si può giocare in questo caso abbiamo visto che addirittura hai usato tre elementi quindi il grass, il marmo e la carta da parati cioè in un ambiente piccolo come il bagno sei riuscita a usare tanti elementi così e rendere davvero un ambiente elegante elegante, particolare adesso abbiamo queste foto però anche preso diciamo con gli scorci sulla parte marmorea e sulla parte del vano doccia è un bagno veramente particolare non è grande, non è grandissimo ma ha un grande senso estetico ecco, stiamo capendo anche come giocare con diversi elementi non chiuda l'ambiente ma lo va ad aprire quasi crea volume invece di diminuirlo allora, mentre passavano prima regia attenzione, ti sto chiedendo un volo, un doppio carpiato fra queste due situazioni c'era quella bella carta da parati tipo murales se riesci a recuperarla perché quella iniziamo a spiegare che è realizzata nella camera da letto di un ragazzo sì, è la stessa casa ecco qua ecco, questa è la stessa casa della parete dei dirigibili e delle mongolfiere col fondo grigio quella è nel soggiorno, è ingresso quando entriamo e questa è la camera del figlio qui praticamente poi verrà appoggiata per questo è una foto praticamente appena posata certo e quindi ci sono ancora dei particolari che si vede che devono essere terminati e questa fa questi graffiti particolari tipo di quelle zone un po' underground degradate, metropolitane oppure di aziende diciamo in disuso dove si creano un po' questi ambienti particolari di tipo industriali e qui lui ha voluto questa carta da parati con queste macchie di colore con parti di mattone faccia vista con degli spruzzi e poi andrà posata la sua scrivania la cassettiera e due mensole diciamo proprio per contenere piccole cose basic allora pubblicità per noi poi torniamo proprio su questa cameretta perché ci sono un po' di elementi da commentare torniamo in diretta lo facciamo con il nostro architetto Paola Uga davvero tantissime idee per la vostra casa scopiazzatele rubacchiatele pure noi siamo qua per questo però sappiate che la mano dell'architetto è una mano santa perché davvero riesce a far svoltare degli ambienti che potrebbero risultare o anonimi se si interviene poco o quando si vuole intervenire troppo anche troppo carici ci vuole la giusta mano la giusta dose torniamo sulla cameretta del ragazzo ecco qua allora la prima cosa che nel frattempo rispondiamo alla domanda questa volta di un uomo è Paolo il tuo omonimo fra l'altro che dice posso a questo punto se uso solo una parete usarla in più camere o è una cosa cioè lui dice giustamente e tu hai già risposto perché hai detto che ho lo stesso appartamento posso usare carte da parati diverse in vari ambienti o risulta no per esempio se si vogliono supponiamo le camere di due figli se si vogliono personalizzare due pareti magari un maschio e una femmina uno può avere un tema e l'altro un altro tema e quindi operiamo quindi su queste due pareti e poi potrebbe esserci una parete veramente nella zona giorno oppure magari nella zona giorno no perché si opera col colore e potrebbe essere il fondoletto della parete della camera dei genitori e le due camere dei ragazzi in più ambienti si può operare in più ambienti si può fare con situazioni diverse e questa molto metropolitana eccetera è già molto piena di suo quindi come dicevi tu magari andiamo ad appoggiarci una zona studio quindi si si che rimane più scarica ha una scrivania praticamente che occupa la parte bassa della parete ma neanche lunghissima sarà un metro e ottanta due metri poi adesso non si vede sulla destra perché doveva essere ancora montato c'è un calorifero tra l'altro che riprende molto bene anche le colorazioni di questa tappezzeria un po' particolare e metropolitana perché il calorifero è di quelli alti pochi elementi ed è di colore giallo quindi spicca molto e poi ha altri particolari tipo la cassettiera che riprende il giallo e invece la scrivania che poi è neutra si può giocare con i colori si può giocare magari con due colori la scrivania poi è totalmente neutra allora su questa proprio su questa carta da parati di questa camera di un ragazzo e sappiamo che le camerette sono uno degli ambienti della casa più in evoluzione perché seguono un po' l'età dei nostri figli sì è vero e poi quando poi i figli se ne vanno vengono reinventate no? se non ci sono non ci sono più quelle mamme nostalgiche che tengo no c'è la trasformazione a studio oppure c'è chi si fa una cabina armada in più ci sono tantissime soluzioni la volta la mamma la mamma teneva nel letto fatto così è vero è vero è vero è vero si chiude la porta vediato che mi recupero una stanza va bene però si scherza ma non troppo infatti Ivo ci chiede vorrei chiedere all'architetto che cosa succede nel caso io mi dovessi stancare dovessi cambiare la parete che sono andato a decorare appunto qui abbiamo visto la manetta di un ragazzo magari dopo voglio farci un'altra cosa uno studio ecco che si bene nell'arco temporale ha comunque sempre una sua durata quando si si utilizza la carta da parati certo è che se appunto succede che domani poi uno vuole rivederlo perché non è più la camera del figlio va bene la carta da parati si può togliere si toglie tranquillamente con un processo particolare ma viene via diciamo a fogli per come è stata posata non è che devo piangere no assolutamente e poi la parete basta chiaramente togliere la colla raschiarla e andare ad operare in quella parete anche solamente con un colore non necessariamente devo riposare un'altra carta da parati assolutamente perché sicuramente ci sarà la colla ma vabbè allora se possiamo andare a recuperare la foto della parete colorata vogliamo ok di questa abbiamo parlato ecco bravo questa qua perché perché noi oltre alla carta da parati per dare valore a una stanza possiamo fare anche altre cose così diciamo quello che dicevi un po' prima se magari in uno o due ambienti utilizzo la carta da parati in altre posso giocare in altro modo esatto su quella parete adesso la foto è distante e poi è inclinata perché io amo fare un po' le foto a 45 gradi spesso e comunque si intravede una libreria che è strutturata praticamente fatta tutta in cartongesso e un pochettino alveolare chiamiamola come struttura davanti c'è questo corpo illuminante molto particolare fatto tutto di lentiche di luce plan è una sospensione perché sotto c'è un tavolo e il fondo della parete della libreria è trattato semplicemente con una idropittura quindi di colore grigio quindi questo per far capire dimostrare anche che non solo magari con la carta da parati possiamo ottenere degli effetti cromatici perché qui c'è il gioco della libreria tutto bianco sotto c'è un mobile tra l'altro vecchio non chiamiamolo di antiquariato elevato ma di comunque un mobile vecchio un mobile un mobile della nonna un'epoca più che altro ecco recuperato e poi ci sono dei corpi moderni tipo il tavolo che non si vede il lampadario a sospensione e però si è creata questa struttura moderna della libreria in contrasto con il fondo diciamo del colore che è un grigio scuro ecco allora abbiamo visto questa libreria molto particolare mi viene una domanda da farti che hai detto che è stata realizzata col cartongesso e spicca tantissimo perché appunto questa parete dietro che è scura molto scura un'altra cosa che una persona se non viene presa per mano dall'architetto ha un po' paura in genere quasi tutti hanno paura dei colori scuri però il colore scuro se dosato appunto su una parete su un fondo di quel genere e le altre pareti dell'ambiente vengono abbinate ad un colore chiaro magari non un bianco sparato cioè in quel caso la libreria sì però le altre pareti magari un bianco sporcato un po' di nero che diventa un grigio perlato e allora quello si integra però è vero che bisogna saperlo dosare perché se no ci si perde soprattutto mi rendo conto che l'individuo in genere ha proprio paura ad usare il colore e soprattutto i grigi quando possono essere carichi ecco e invece vediamo che bell'effetto soprattutto come si sposano bene questi colori scuri con il ligneo perché poi con questo mobile che dici tu che non è neanche un granché diciamoci la verità a livello non è che è un pezzo importante no non è un mobile è un maggiolino piuttosto che un mobile del 500 è un mobile dell'800 una credenza però acquista moltissimo e poi sul colore scuro effettivamente non emerge in maniera troppo evidente perché se la parete fosse stata bianca quest'elemento veniva fuori tantissimo invece così c'è ma non non disturba non disturba è vero e poi anche qua abbiamo visto ci saranno tante puntate per parlare di tutte queste cose come c'è questo mix moderno antico che bisogna sapientemente dirigere tu sei come il direttore di un'orchestra si è vero andare tutti gli strumenti insieme adesso vorrei fare un doppio carpiato perché abbiamo lo faccio fare alla regia veramente abbiamo questo bellissimo locale così facciamo anche un po' di pubblicità locale ai tuoi clienti di questi ristoratori giusto? una pizzeria ristorante proprio di questi ristoratori campani che ovviamente hanno Napoli nel cuore e quindi hanno voluto anche a Vercelli portare un pezzo di Napoli e metterlo proprio sulle pareti tant'è che li vediamo Sofia Loren però poi c'è anche Edoardo ecco è un locale progettato anche qui i colori sono scuri e qui addirittura c'è anche il soffitto scuro perché prendono un pochettino proprio il colore di quello che è il vulcano il Vesuvio anche nella zona diciamo dove ci sono i doppi forni e qua si vede questa tappezzeria che è stata proprio disegnata diciamo al computer per loro dedicata per loro perché il locale si chiama teatro e quindi loro amano tutti i personaggi del teatro e dell'arte napoletana quindi ritroviamo Edoardo De Filippo Troisi Sofia Loren Peppino De Filippo e Totò ci sono e poi altri pannelli come in questa sala che ricordano diciamo l'essere napoletano e su questa tavola in plexiglass ho riprodotto praticamente il testo di Napolet di Pino Daniele di Pino Daniele poi magari ci porti una foto del dettaglio del pannello in plexiglass che quello è un altro mondo ancora un'altra idea ma per rimanere sulla carta da parati avete capito cosa ha fatto il nostro architetto voi le date un tema a voi caro che so la poesia piuttosto che il cinema anni 50 piuttosto che la pittura e lei vi sviluppa questo tema con delle immagini quindi questa carta da parati è stata creata per loro ce l'hanno solo loro ce l'hanno solo loro e poi è fatta non con un disegno definito in maniera diciamo col contorno definito proprio dell'immagine ma tutto a pixel che sono quelle piccole macchioline che creano l'immagine proprio e come l'immagine fotografica è come quella anche del vostro televisore cari telespettatori noi non siamo Paola e Maria Rosa ma siamo tantissimi pixel che vi arrivano così più definiti o meno definiti a seconda del televisore che avete in casa facciamo finta che in questo ristorante ci siano questi televisori vecchi dove questi pixel risultano abbastanza sgranati e quindi la foto è molto molto romantica e rende tutto sui toni sempre del bianco e nero non è proprio nero il tono qua dello scuro delle pareti è un grigio ma con dentro del marrone quindi diventa più venghe se vogliamo definirlo per me è tutto nero vedi l'architetto e anche l'immagine della tappezzeria non è un bianco e nero perché sarebbe stato un effetto grafico troppo violento ma è anche lì un marrone scuro quindi un marrone scuro con questo bianco e che crea diciamo le diverse prospettive dei personaggi adesso ovviamente vediamo un ristorante gli spazi sono anche importanti vediamo in un'unica parete più pannelli con diversi personaggi magari è improponibile in una casa avere tre pannelli affida beh sì effettivamente quella è una parete molto lunga e poi soprattutto ci sono anche le aperture quando è stata studiata al computer si è disegnato proprio tutta la parete con i passaggi con tutto quello che ci poteva essere lo sapevi già dove sarebbe stata tagliata quindi bisognava anche centrare le figure nelle parti di pareti piene chiaramente e quindi questo a casa magari non è paragonabile chiaramente al locale e alla lunghezza della parete però per dire un tema si può sviluppare con un ritratto anche con una fotografia per dire che uno vuole riprodurre particolarmente cara è romantici che so volete mettere la foto delle Maldive dove avete fatto il viaggio non con voi due è proprio solo il paesaggio così anche se c'è uno switch poi uno si può tenere la carta da parà un po' come la storia dei tatuaggi non bisogna tatuarsi il nome del partner ecco a casa uguale non è che vi mettete la carta da parati col marito con la moglie stiamo più mettete la Sofia Lore generico generico il cinema potrebbe essere un tema il cinema è un tema vabbè si scherza Paolo ovviamente però davvero abbiamo dato tanti tanti spunti e ci torniamo perché dobbiamo dirvi ancora tante cose come potete coprire anche altri elementi di arredo della casa come far sparire delle porte insomma come l'architetto sia anche un mago lo scopriremo nella prossima puntata torni? sì certo ecco certo come no non potrei farne a meno con voi con piacere con piacere meno male direi ringraziamo il nostro architetto Paolo Auga grazie a voi alla prossima grazie a te Maria Rosa e a tutto lo staff grazie ci vediamo domani con un argomento meno poetico ci sarà in studio l'avvocato a domani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti